...e la prima categoria di mando di Rattacurna, dove abbiamo messo il numero 27 di catalogo Gaudi, presentato da Sant'Olinio Sanco Pietro. ...non spero, è il numero 29 di catalogo, nota lì, presentato da Romano Mario Giala. ...non spero, non spero, non spero. ...non spero, non sapere, è il numero 31 di catalogo. ...non ir Nurse La Fine della petitsa di rotta ING. ...non spero, è il numero 33 di catalogo. E.M.S. presentata da Bianco Fiori, stessa applicare, stessa posizione per la numero 3 da 2, U.V.A. presentata da Cimilio e Onora, primi, lo sanno partito di Castrofa, stessa posizione per la numero 28 del catalogo. A.M.S. presentata da Bianco Fiori, stessa posizione per la numero 7 da M.S. presentata da Palincio Fiori, stessa posizione per la numero 27 del catalogo. Grazie.